Carissimi amici, ho uno scoop sensazionale per voi. Una fonte assolutamente attendibile ed informatissima sui fatti, ma che vuole restare nell'anonimato, mi ha inviato le prove inoppugnabili del coinvolgimento del Wagner nel traffico di migranti tra la Libia e l'Italia. Una roba eclatante. Condivido con voi in esclusiva il filmato che mi ha inviato e che guardo per la prima volta. Ecco, vedete, c'è questo scafo pieno di migranti, effettivamente c'è un militare, un militare che sembra della Wagner, c'è un puntino bianco, un puntino... Ma è Prigocin, Evgeny Prigocin, è il fondatore della Wagner, è lui, incredibile ragazzi, incredibile, ma è uno scafista, ma allora è uno scafista, chi l'avrebbe mai detto, aveva ragione Crosetto, aveva ragione Crosetto. Ha stato la Wagner anche stavolta, sti criminali. No, anche l'11 settembre hanno stato loro, hanno stato loro... No, hanno pure ammazzato Cristo. Io non ho parole, io non ho parole. Ho sempre pensato che fosse stato Ponzio Pilato, i Romani. Invece pensate, anche i Vangeli, propaganda di Putin. Ma non finisce qui, amici, non finisce qui, perché è un'altra terribile notizia. Quei malvagi della Wagner ne sanno una più del diavolo. Ricordate l'idea della taglia di 1500 lire su Crosetto? 1500 lire, vabbè, anche troppo, ma c'è l'inflazione. Ecco, fallita questa idea, quel cattivone di Prigocin ha avuto un altro piano malefico. Pensate, ha escogitato, ha escogitato di mandare uno di questi africani nelle case dalle mogli di Tajani e Crosetto. Capito? Ai 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 ai, qui la cosa si mette male, state attenti. Ah, Prigocin, ma quante ne sai. E si scherza, amici, si scherza su queste notizie assurde per quei poveri svantaggiati che pensano che io stia facendo fake news. Chiaramente si tratta di fotomontaggi realizzati dall'amico Tecnenzio, che saluta e invito a iscrivervi al suo canale. E insomma, si è iniziato scherzando, ma adesso viene il pippone. Sì, perché Crosetto e Tajani hanno parlato dell'Africa destabilizzata dalla Wagner, che gestirebbe i traffici di migranti in Libia. Ma allora, vogliamo rimettere la storia al suo posto e ricordarci cos'è accaduto veramente? Sicuramente dobbiamo precisare che nel 2010, mi pare, vennerà raggiunto un accordo con Dadafi. Piaccia o meno, stabilizzò bene o male le rotte. Cosa successe? Vi ricordate del Primavera Arabe? Questa ventata di democrazia con i tweet che doveva portare la libertà nell'Africa magrebina? Ecco, ha disatteso tutte le sue promesse e ha portato il caos in Libia. Perché i ribelli democratici che lottavano contro la terribile dittatura di Dadafi, ricordate questo copione, poi verrà riproposto in Siria, in Ucraina, in Venezuela, in Bielorussia, eccetera, eccetera. In realtà non erano che dei jihadisti, dei caedisti e poi sono diventati ISIS, eccetera, eccetera. E hanno iniziato a gestire loro il traffico di migranti, ma andiamo per gradi. Perché iniziò la destabilizzazione in febbraio della Libia, fino a quando alla Francia e gli Stati Uniti non venne l'idea di portare la democrazia in Libia come? Ma con le bombe, chiaramente. E così partì il 19 di marzo del 2011 una democraticissima, nonché civilissima e umanitaria, operazione di bombardamento delle città libiche con pacifici e intelligentissimi missili Tom Warke. La cosa fu presa talmente bene che il 25 marzo altri paesi, tra cui l'Italia, il Canada, la Danimarca, la Gran Bretagna, la Spagna, la Norvegia e anche il Qatar iniziarono l'operazione della NATO Unified Protector. Pensate, iniziarono tutti assieme a bombardare la Libia chiamandosi protettori. La cosa andò bene fino a 19 stati, fino a quando il cattivone dittatore Gheddafi non venne preso e giustiziato in maniera molto democratica, senza processo. Andiamo a vedere le immagini della civiltà portata in Libia. Ecco, queste sono le immagini di Gheddafi, vediamo qui in questa foto, è ancora vivo in mezzo a questi democraticissimi ribelli, poi viene ucciso e qui è esposto come profilo da un giovane che sicuramente sarà un umanista. Sicuramente sarà un umanista. Dopo la morte di Gheddafi, il 20 ottobre ci fu la morte di Gheddafi, il 31 ottobre finì l'operazione di NATO che lasciò la Libia nel caos totale, in mezzo ad una orribile guerra civile in uno scenario oscuro con i jihadisti, i khaedisti che si ammazzavano fra loro, il popolo completamente nelle mani di questi gruppi militari. Ma dobbiamo fare nuovamente un passo indietro perché dobbiamo ricordare che nella terribile dittatura di Gheddafi la Libia era un paese prospero, un paese prospero e ricco. Quasi tutti gli stati dell'Africa mandavano migranti in Libia, la Libia era un paese di ricezione di migranti e andavano a lavorare lì, non venivano in Europa, si fermavano in Libia con la guerra, ovviamente scapparono dalla Libia e così si aprirono le roppe, si organizzarono gli scafisti e che erano gli scafisti? No, nient'altro che questi gruppi paramilitari armati chissà da chi degli ex ribelli democratici che erano diventati magicamente dei khaedisti, dei jihadisti, dei criminali sostanzialmente. Così cosa succedeva? Che gli africani dal Ghana, dalla Gambia, dal Senegal, da tutti questi paesi venivano attirati verso la Libia, poi venivano sequestrati, vengono messi in questi centri orribili, detenzioni dove subiscono torture di tutti i tipi, sono costretti a chiamare le loro famiglie che devono mandare soldi e quando raggiungono una certa somma possono comprarsi la libertà. E cosa significa la libertà? Essere presi, messi su un gommone o su una barca di fortuna ed essere inviati a morire in mare oppure raggiungere le meravigliose coste della Sicilia. E' così che insomma ci sono i viaggi della speranza che purtroppo molto spesso si traducono in terribili naufragi. Ci sono questi scafisti, queste organizzazioni che gestiscono questi traffici, non sono i Wagner ma sono i libbi, ci sono questi gruppi criminali che fanno capo al governo riconosciuto dall'Occidente. Ricordiamo ci sono due governi in Libia, uno che viene eletto dal popolo e l'altro invece è quello democratico che viene riconosciuto dall'Occidente che però ha questo problemino con la gestione dei migranti, tanto glielo accollano ai Wagner. Quindi insomma alla fine di questo pippone io voglio lanciare un appello, no voglio denunciare, voglio denunciare Crosetto e Tajani, smettetela di speculare sulla pelle dei migranti per fare le vostre strumentalizzazioni politiche e piuttosto risolvete la situazione dei migranti perché nessun uomo nessuna donna nessun bambino deve più morire nel nostro mare.